Allora, 30 produttori, com'è la qualità dei musetti di quest'anno? Quest'anno il musetto è di qualità ottima, per non dire superiore all'anno scorso, perché è stato curato in maniera un po' particolare sicuramente da qualche produttore, io ne ho assaggiato alcuni, sono veramente, ma veramente ottimi, di ottima qualità. Pertanto, il prossimo anno consiglio a tutti di venire a fare un bel assaggio del musetto, che è veramente una cosa un po' particolare. Da quanto tempo siete al lavoro? Da due giorni, perché gli ospiti sono tanti, pertanto il lavoro è tanto. Grazie.